Allora consigliere Gerboni, a che punto siamo qui? Allora, innanzitutto un saluto da Piazza Roma ai cittadini di Frascati. Oggi stiamo condividendo il bilancio consuntivo 2011 con la cittadinanza. Siamo, credo, l'unico gruppo che viene in piazza qui a presentare questi dati. È importante comunque che i cittadini sappiano quanto accade dentro il comune di Frascati in quanto, come lei ben sa, ancora non c'è la possibilità di portare una videocamera e solo fare una fotografia. 180 giorni domani. Esattamente, è considerato un reato e allora veniamo noi in piazza e portiamo questi dati ai cittadini. Ci sono 56 milioni e passa di debiti consolidati verso fornitori, ditte e quant'altro. I nostri advisor dicono comunque che il comune di Frascati è prossimo comunque a un fallimento che se non è formale è quantomeno tecnico, nel senso che avremo, presso delle difficoltà proprio a far quadrare i conti e l'innalzamento di tutte le tasse che va a sancire questo ragionamento. 57 milioni sono i famosi residui passivi. Esattamente, che poi dovrebbero essere pareggiati dai residui attivi, però noi di volta in volta stiamo trovando delle incongruenze in questi residui. Una voce che ci ha stupito è quella delle menze. Dal 2004 sembrerebbe che il comune di Frascati abbia contratto un milione e mezzo di debiti rispetto ai fornitori alle menze, mentre per il funzionario addetto questi crediti sarebbero solo di 60 mila euro. In una commissione che si è tenuta giovedì il direttore generale Di Paolo è rimasto stupito da questa differenza comunque di un milione e 300 mila euro e passa. Hanno scritto un milione e 4,72 mila euro. E da quanto tempo è stato rimosso? Da una decina di giorni, non di più. Probabilmente perché sia opposto al fatto che c'era questa differenza così grande. Forse ci debbono mettere qualcuno fedele. Io adesso questo non lo posso dire perché qui si va veramente nel torbido, se fosse quanto lei si billinamente afferma. Noi quello che dobbiamo cercare di fare è di tenere i conti quanto più in regola possibile e far sapere ai cittadini se ci sono delle situazioni di difficoltà, perché poi non dimentichiamo nel momento in cui il Comune di Frascati verrà commissariato nel bilancio la prima cosa che farà il commissario ad acta sarà aumentare tutte le tasse al massimo possibile, il che in effetti potrebbe neanche essere così male perché ci stiamo arrivando noi di volta in volta, perché se pensiamo che l'IRPEF è raddoppiata nel giro di due anni, che l'IMU sulla seconda casa e sui locali commerciali è già al massimo e sulla prima casa è al 4 per 1000, cosa che in realtà sta aumentando di volta in volta, in realtà ci stiamo già arrivando al massimo delle tasse, però vorremmo evitare magari di avere di parcheggio a 4 euro. Quindi teoricamente, a parte tutte le altre voci di incassi riaccertati che giacciono su quel libro da anni, 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 8 anni, 10 anni, 11 anni, ci sarebbe addirittura la possibilità che ci sia un buco proprio di bilancio. Certo, se noi pensiamo che ogni anno la spesa che facciamo per il bilancio di competenza, quindi la gestione annuale è di oltre 20 milioni di euro e capiamo bene come la macchina del comune di Frascati tra 84 dipendenti della municipalizzata, l'STS, 117 dipendenti comunali, sia una macchina molto faragginosa. Poi abbiamo anche delle spese come quella del scuderia Dobrandini che è un po' a light motive di questi ultimi anni, questo ormai lo sanno tutti. Comunque dove ci andiamo sotto 430 mila euro all'anno di debito. Senta una cosa, ma invece quello che a me mi stupisce è che quest'anno siano stati espunti residui attivi, cioè soldi da incassare, per 4 milioni e 972 mila euro. In pratica erano soldi che 12 mesi fa i revisori dei conti avevano validato, dopo che gli uffici avevano riaccertato. Certo, allora la questione è la seguente. Quindi in 12 mesi che è successo? Ogni anno una buona amministrazione, ma da un'azienda privata a un'azienda pubblica deve ricontrollare le voci in bilancio, ovviamente anche quelle dei residui. E queste sono semplicemente voci che per un motivo o per un altro adesso non ci sono più, è stato certificato che non ci sono più. Quello che noi diciamo come PDL, come gruppo consapevole PDL, è che questi soldi sono in realtà molti di più e che il comune di Frascati sta limitando questa eliminazione dei residui appunto per tenere il bilancio formalmente in pareggio, quando se domani tutti quanti i nostri creditori, i nostri debitori scusi, ci chiedessero i soldi, noi saremmo semplicemente che falliti, dovremmo vendere scrivanie, cosa che tra l'altro ha fatto la Smile, che è l'azienda che rega il servizio e la Schiaffini. Quindi noi abbiamo Cocciano che per 15 giorni è rimasta al buio, in quanto noi dovendo pagare un milione e duecentomila euro alla Smile, loro hanno detto o ce li pagate o smettiamo di farvi la manutenzione, ma è anche sensato, mentre abbiamo Schiaffini che adesso ci ha fatto un decreto ingiuntivo per due milioni di euro e quindi potrebbe anche succedere che a breve lo stesso trasporto pubblico vada in sofferenza, vada in crisi, perché poi è anche normale che se io che sono quello che appalta il servizio e poi non paga, ci sia da parte delle ditte che ci hanno appalto. Non era il comune di Frascati quello amministrato secondo la teoria del buon governo del Messere? Il comune di Frascati non è amministrato secondo questa buona teoria, voi dovete pensare la seguente cosa, è buon senso, Bosa vince la prima volta con 40 voti, cioè va al ballottaggio con 40 voti su Molinari, quindi prende il 33%, la seconda volta... è stato così bravo da aumentare del 40%, ovviamente la bravura è stata che c'è stata una spesa pubblica eccessiva rispetto a quello, ci siamo indebitati facendo un po' un modello craxiano, un po' un modello socialista e alla fine ci troviamo adesso che ci servirà un commissario alla Monti, quindi lacrime e sangue, per rimettere a posto tutte le feste che abbiamo fatto nel corso degli anni della seconda gestione Posa, quindi Tommaso è colpevole perché in tutti questi anni ancora è riuscito a contrarre, quindi è connivente con questo sistema politico, ma noi dobbiamo cambiare il sistema politico in modo tale che alle persone, ai cittadini andiamo anche a contrarre la pressione fiscale. Grazie.